Bene amici eccoci finalmente al confronto tra il tanto zannato in tanti commenti dell'XPS 15 e il mio MacBook Pro da 15 Iniziamo a parlare di design, materiali e di misure Beh molto più pesante, 2,2 kg il touch e la batteria veramente lo fanno diventare un mattoncino Per quanto riguarda la pianta più o meno sono uguali, un pochino più squadrato il Mac, un pochino più allungato il Dell Quello che cambia tanto è lo spessore, guardate quasi la metà il Mac Per quanto riguarda quello che c'è dentro l'hardware abbiamo un SSD che è molto veloce in entrambe le parti Però qua abbiamo l'ultima generazione dei processori Intel, i Kaby Lake Mentre qua abbiamo gli Sky Lake quindi una generazione precedente Diversa gestione anche delle schede video perché da una parte abbiamo un video e dall'altra abbiamo una Radeon A livello di prestazioni cambia tanto, questo lo vedremo tra poco Adesso vi faccio vedere però una cosa che mi fa veramente girare le scatole di Apple Ovvero oltre al prezzo ma faremo un ragionamento alla fine, le porte Qua solamente 4 Thunderbolt anche messe vicine e non c'è più la mela che si illumina E non c'è più il pulsantino per vedere lo stato di carica della batteria E non c'è neanche sull'alimentatore nessun LED, troppo minimalismo qua su Apple Mentre su Dell c'è tutto, ovvero il pulsantino per vedere la batteria Un sacco di porte da una parte e dall'altra Quindi da questo punto di vista sicuramente il Dell è meglio anche se io ho risolto con un piccolo adattatorino Però per quanto riguarda i materiali le cose si ribaltano Perché qua è vero che abbiamo alluminio e carbonio però un pochino scricchio L'avete visto nella recensione Sicuramente non è premium l'aspetto Anzi in foto premium ma dal vivo Non so, all'aria di un computer Come tantissimi Windows che si trovano in giro Mi piace tantissimo invece il display che non ha cornice 4K touch Non è touch invece il Mac Mac che da questo punto di vista Costruzione e aspetto premium veramente non è secondo a nessuno Costa anche 1500 euro in più Che sono tantissimi Ma adesso andiamo a vedere come vanno e quale ho scelto io Bene e adesso la prova di prestazioni pure Di batteria e ovviamente di processore Ho lo stesso file caricato su tutti e due i computer È un progetto abbastanza complicato di Premiere Durerà una ventina di minuti probabilmente il rendering Vediamo quale dei due ci mette meno E soprattutto quale consuma più batteria Entrambi partono dal 100% E sono ovviamente staccati da rete e da corrente Pronti? Viva! Partenza pari merito Siamo a circa due terzi di questa gara estemporanea E andiamo a vedere il Dell Il Dell è più o meno a due terzi proprio Con sei minuti di tempo residuo per finire il rendering Mentre il Mac ha dodici minuti di tempo residuo per finire il rendering E è leggermente indietro Ma adesso che sono sotto stress Le ventole sono praticamente al massimo su tutti i due pc E andiamo a sentire con l'orecchio Quale dei due fa più rumore Beh, devo dire la verità A ventole al massimo nessuno dei due fa tantissimo rumore Ma l'altra cosa che voglio valutare sotto stress Sono le temperature Parte superiore Devo dire caldini entrambi Intanto qua mi chiede se voglio interrompere la coda No, scusa, ho schiacciato una cosa per sbaglio Però non nella zona dove si appoggiano i polsi Sentiamo il Dell Anche lui caldicchio Ma anche lui non particolarmente caldo E nemmeno lui sulla zona dove si appoggiano i polsi Proviamo a sentire sotto Ovviamente qua esce aria calda Tiepido ovviamente anche lui Ma assolutamente non scotta Invece il Mac sentiamo un po' Sarà che è tutto alluminio Anche il Dell è alluminio Ma qua forse più monolitico Ma la mano sotto percepisce un calore leggermente superiore sul MacBook Pro Chissà che finirà prima Sicuramente il Dell Ma soprattutto chissà che consumerà meno batteria Per ora sul Dell siamo all'81% Mentre sul Mac 86% Quindi sulla batteria leggero vantaggio del Mac Che però è un po' indietro nel rendering Quindi alla fine secondo me consumeranno uguale Ma stiamo a vedere No, dramma Smanettando mentre stavo parlando Non mi sono accorto di aver interrotto il rendering sul Mac Quindi niente Ripartiamo da capo Ovviamente la batteria riparte da dove era È come se fosse un rendering più lungo dai Ok, col secondo rendering il Dell sta un po' soffrendo le temperature Perché la ventola adesso è al massimo Quindi adesso con ventola al massimo Però dopo una buona mezz'ora di rendering Il Dell È un filo più rumoroso del Mac Nulla di drammatico ma la ventola si sente Bene, il Dell XPS è appena finito di renderizzare Ci ha messo circa 20 minuti Il Mac siamo a 25,48 Gli mancano ancora 30 secondi Quindi per quanto riguarda prestazioni pure Sicuramente vince il Dell Un pochino più rumoroso Nella ventola quando renderizzava E quando era sotto pressione Ma andiamo a vedere la batteria Perché siamo a 53% Dell E circa 49% Mac Che più o meno ha perso Un po' meno percentuale all'inizio Ne sta perdendo un pochino più adesso Più o meno sono pari Per quanto riguarda la fase di montaggio Questa finestra a tutto schermo Sta facendo girare un H.265 Devo dire Mac leggermente più fluido Rispetto al Dell Strano perché le prestazioni in assoluto del Dell Sono migliori Ma adesso ho questo Per andare a misurare la luminosità dei display Display del Dell Che è più definito Perché ha 200 Me lo sono scritto 282 ppi Contro i 220 dpi del Mac Ok cerchiamo un'immagine bianca Da una parte e dall'altra Tra l'altro è anche un Bing vs Google Entrambi ovviamente settati alla massima luminosità E abbiamo circa 340 lux per il Mac E circa 349-350 per il Dell Quindi leggerissimo vantaggio del Dell Ma sostanzialmente all'aperto si vedono uguali Perché il Dell è leggermente più riflettente È vero che lui è touch e il Mac no Ma allora aprirei un altro capitolo Touch bar o display touch? Sostanzialmente abbastanza inutili entrambi Ormai il Mac lo uso da tanto tempo E la touch bar non ho ancora imparato A usarla proprio tantissimo A volte faccio prima con le scorciatoie Il touch del display Stessa cosa Ogni tanto lo uso Poi rimangono le editate Mi arrabbio pulisco E poi mi dimentico di averlo Parliamo un attimino di velocità di rete Perché ormai ci colleghiamo tutti al wifi Beh qua c'è una bella differenza Perché io ho avuto dei problemini Con la scheda di rete del Dell Con Chrome Soprattutto ogni tanto si inchiodava Dei blocchi Ma anche a condividere i file E questo si ripercuote anche su questo speedtest Non chiedetemi perché Non mi va più speedtest.net Ma ho trovato quest'altro sito fantastico Praticamente dagli stessi risultati 326 Mbps in download E 200 in upload Per il Dell Quindi va a sfruttare al massimo Diciamo Sul gigabit teorico della rete 326 Mentre il Mac arriva a 615 Quindi una scheda di rete Wi-Fi Sicuramente più performante Per quanto riguarda il cablato Entrambi si avvicinano Al gigabit di targa Per quanto riguarda l'audio Due filosofie completamente diverse Perché qua sul Mac Abbiamo gli speaker Sopra Qua invece li abbiamo sotto Funzionano in parte per riflessione Io tra l'altro Non ho scrivendo in ferro Quindi riflette bene Ma andiamo a vedere 4K 4K Play da una parte Volume al massimo E qualche scattosità nel video La vedete E adesso il Mac Gira molto più fluido Sempre Chrome Il volume è un po' più alto Ma soprattutto la qualità dell'audio Decisamente migliore Decisamente lo sottolineo Tastiera Beh qua devo dire Che non ho una preferenza Meglio il Dell Per quanto riguarda la corsa Mi piace Un pochino più lunga Si scrive bene Non si fanno tanti errori Ma la retroilluminazione Mi dà un po' fastidio Perché esce lateralmente Non uniformemente Da tutti i tasti Finezze Vince la velocità di digitazione La tastiera del Mac A me sinceramente Non dispiace Perché sono molto veloce A scrivere Tiro delle saccagnate Incredibili sui tasti Per riuscire a scrivere Senza fare errori Quello che non mi piace È invece il rumore Sì Di sera Quando scrivo Nel silenzio Della notte Tutti dormono Scrivendo qua Quasi sveglio le persone Qua no Silenziosa Però l'elettroilluminazione È più precisa sul Mac Ok ma dopo tutte queste prove Andiamo alle conclusioni Partendo dal prezzo A parità di configurazione 1900 euro Da una parte E addirittura 3419 dall'altra Apple quest'anno Ha veramente alzato Troppo la sticella Dei prezzi Ma Una considerazione Sul Dell Che Con 1300 1500 Si può portare a casa Un Acer Un Asus Un HP Qualsiasi Con le stesse performance Con più o meno Con le stesse caratteristiche Il quid in più di questo Dell Doveva essere La portabilità Il fatto che In una dimensione Di un 14 pollici C'è un display Da 15 E i materiali Beh in realtà Hanno fatto centro in parte Perché i materiali Alla fine Così così Un pochino scricchiola Ma soprattutto Secondo me Il design Non così bello Come i materiali Potevano far sembrare E poi Qualche criticità Sulla scheda di rete Qualche problemino Che mi è arrivato Mi è stato segnalato In mail Da un punto di vista Dell'assistenza E anche Dell'assemblaggio Di alcune unità Di utenti miei Che lo hanno comprato Dall'altra parte Il Mac Troppo Troppo Caro Ma io lo prendo In mano È solido È resistente È robusto È molto bello Una sciocchezza Una sciocchezza Che non cambia la vita Ma nell'uso quotidiano Poi alla fine Cambia qualcosa L'apertura Qua non c'è nessun tipo Di possibilità Di presa Bisogna tirare su qua E il dito Un po' scivola Poi ok Lo riesci ad aprire Con due mani Qua c'è un bel link Fai così Si apre Assolutamente Bilanciato Sono queste le cose Da un punto di vista Hardware Che fanno la differenza Fa la differenza Anche il fatto Che qua Non ho altre porte Rispetto alla Thunderbolt 3 Però mi sono organizzato Con un adattatore Ormai si riesce a fare A fare tutto Quindi per me L'uso quotidiano Non è più un grosso problema È un fastidio Quello sì Qua le porte Ci sono tutte E da un punto di vista Sistema operativo In Windows Non trovo ancora Quella Congruità Grafica Quell'omogenizzazione Tra Su un display 4K Finestre che mi si aprono Sfocate Perché sono A soluzione più bassa Finestre che mi si aprono Piccolissime Windows 10 Bellissimo Però poi Per andare nell'opzione Magari una sotto opzione Clicco e mi si apre ancora Il pannello di controllo Di Windows 95 Insomma sono tutte cose Che mi danno fastidio Che non trovo in Mac Che trovo Un sistema operativo Più stabile E anche più curato Graficamente C'è però un ambito Dove Windows Vince la grande Che è in realtà Uno dei miei ambiti Ovvero quello dell'architettura AutoCAD Archicad Programmi di modellazione Qua girano Decisamente Meglio Quindi se usate Questi strumenti Per quel lavoro Vi consiglio Un PC Un PC Windows Per quanto riguarda La differenza di prezzo C'è Innegabile Non pensiate che io Sputi sui soldi Anzi sono Anche un braccio Abbastanza corto Ma 1500 euro Di differenza Secondo me Ci stanno Ci stanno Da un punto di vista Proprio dell'uso quotidiano Dell'affidabilità Di questo Mac Fate conto Che la vita media Di un computer Di questo tipo È tra i due E i tre anni Alla fine sono 30 40 50 euro Al mese Che un professionista Riesce tranquillamente Ad ammortizzare E allora E allora Io preferisco L'affidabilità E il sistema operativo Della mela Rispetto al Dell Che rimane Un ottimo computer Molto veloce Performante Ma Rimane quel ma Un saluto Da Andrea Galeazzi Punto com